Con Silvio Squarzoni, centrocampista della primavera gialloblu al termine di Verona-Milan 5-1. Silvio, io innanzitutto parto dal calcio di rigore di oggi. Come è nata la scelta di andare dagli 11 metri? Sul foglio spogliatoio c'è scritto Flacus, però me la sono sentita. Sentivo un po' di meritarmelo, ho chiesto a Flacus e lui gentilmente me l'ha concesso. Per fortuna ho fatto gol. Qual è l'emozione per il secondo gol stagionale, dopo quello che avevi siglato all'Empoli alla prima giornata di campionato? No, sicuramente sono felice perché quando posso aiutare la squadra lo faccio stravolentieri e quindi segnare i gol aiuta la squadra e sono molto contento. Ormai sono 13 anni, nel settore giovanile gialloblu per te è una grande emozione, ormai la tua famiglia. Esatto, sì, sicuramente sono nato a Verona, tifo Verona, sono un tifoso del Verona e sono stracontento di essere qua da 13 anni e onoro la maglia ogni giorno.